Il mio intervento di quest'oggi vertirà sulla cessione del credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico fatto negli edifici sia abitativi che di carattere produttivo. In sostanza la norma gradualmente dal 2013 fino ad oggi ha introdotto questa possibilità inizialmente legata a una categoria di soggetti cosiddetti incapienti, poi successivamente la stessa possibilità è stata allargata anche ai soggetti non incapienti al fine sostanzialmente anche di introdurre degli elementi di finanziamento soprattutto negli edifici condominali laddove ci sono sempre talune categorie di condomini che per motivi finanziari magari sono regalcitranti a partecipare a questo tipo di spesa. Con la possibilità della cessione si ottiene sostanzialmente il finanziamento dello stesso intervento e quindi questo ha anche negli obiettivi del legislatore favorito un più semplice avvio di questa tipologia di interventi.